Salve a tutti, sono il dottor Vincenzo Lamico e nella nostra puntata della classica rubrica di odontoiatria che ci accompagna da qualche settimana parleremo dei traumi del distretto maxillo facciale. Divideremo il trauma che verrà correlato alla frattura ossea o alla problematica comunque ossea in generale ai traumi dentali. Per quanto riguarda i traumi a carico delle strutture osse, essi comportano non spesso ma in una percentuale sostanziosa dei casi delle lesioni vere e proprie dell'osso. Sono quasi sempre dovuti a incidenti stradali o a incidenti sportivi, più raramente correlati a neoformazioni che crescono in maniera subacuta quindi senza nessun sintomo all'interno dell'osso e che quindi lo mangiano dall'interno e non avendo più struttura la mandibola, perché succede quasi sempre nella mandibola, ad un certo punto con un minimo sforzo va incontro alla frattura. Per quanto riguarda i traumi da incidente sportivo o stradale, essi riguardano in maniera sostanziale la parte zigomatica e la parte mandibolare. Se analizziamo l'osso della mandibola e avessimo la possibilità di visionarlo direttamente vedremo che esso non è formato da un'unica tipologia di osso ma si divide in un osso detto alveolare che è quello che sorregge i denti ed è funzionale ad essi. Quindi quando un paziente perde un dente, quell'osso va incontro a un rimodellamento, detta in soldoni, si ritira. Si ritira perché? Perché non ha più la sua funzione e quindi non ha più bisogno di rimanere lì. Il calcio viene utilizzato dall'organismo in altre parti del corpo. Quando invece dicevamo quindi che se la frattura interessa all'osso alveolare può essere anche competenza dell'odontoiatra che con un opportuno esame radiografico, se necessario un combin o una risonanza magnetica, può valutare sia tramite una visita che tramite appunto esami diagnostici la frattura limitata a quest'osso e quindi fare un semplice follow up, quindi un richiamo periodico del paziente, quindi monitorare il paziente nel corso di un mese e valutare se il danno c'è stato solo sull'osso o anche sui denti, quindi se i denti perdono vitalità. Il classico segno del dente che perde di vitalità è il viraggio di colore, il dente diventa scuro. E con opportune radiografie successive capire se la frattura si è rimarginata. Diciamo che le fratture dell'osso alveolare non hanno grossi problemi, spesso avvengono e si risolvono in maniera totalmente subacuta, quindi senza nessun sintomo, se non un po' di dolore nei primi giorni. Altro è la frattura dell'osso strutturale, quindi dell'osso vero e proprio della mandibola. Se ciò avviene, interessa nel 90% dei casi la zona dei condili, quindi la zona dell'articolazione temporomandibolare. Quando la frattura avviene nel condilo, sul condilo, un'opportuna risonanza ci dirà se è possibile intervenire in maniera non chirurgica, quindi facendo una forma di ingessatura, cioè bloccando la mandibola al mascellare superiore con un bandaggio. In questo caso lo specialista con degli opportuni esami valuterà se si riuscirà a risolvere la frattura non chirurgicamente, quindi andando a bloccare la mandibola con il mascellare superiore tramite uno splintaggio e facendo rimanere il paziente immobilizzato per vari mesi, oppure se è il caso di intervenire chirurgicamente, quindi andando ad aprire la struttura anatomica dell'articolazione e eliminare eventuali frammenti e bloccare il condilo spezzato sul ramo della mandibola. In percentuali minori, ma comunque significative, la frattura può interessare appunto il ramo della mandibola. In questo caso non è possibile non intervenire chirurgicamente e anche qui bisognerà rivolgersi al maxillo facciale per creare con dei appositi bloccaggi che poi andranno rimossi dopo un paio d'anni, degli splintaggi, quindi dei blocchi della mandibola. La mandibola viene avvitata con delle ferule, le due parti mobili vengono solidarizzate e bloccate e anche qui è comunque necessario un blocco dell'articolazione, un blocco delle arcate per permettere tempi di guarigione. Se la frattura avviene invece con problemi legati a cisti o neoplasie, ecco che il quadro si complica perché bisognerà nel caso di cisti benigna, eventualità non rara, anzi molto frequente, che ci troviamo ad affrontare quasi quotidianamente sulla poltrona a livello di chirurgia orale, si eliminerà la cisti e se la frattura non è ancora avvenuta, si protenderà per un bloccaggio nel caso in cui l'area sia molto vasta. Se invece riusciamo a valutare che la struttura anatomica è sufficiente, si daranno opportune indicazioni al paziente, quindi quella di non mangiare cibi duri, di non affrontare agonismo e di viaggiare in maniera sicura, per quanto possibile, per almeno sei mesi. Ed ecco che il problema verrà risolto da solo. Se invece la patologia è neoplastica, quindi ci troviamo di fronte ad un tumore dell'osso, ecco che si dovrà comunque fare un intervento molto demolitivo che comporterà una grossa resezione a blocco della struttura anatomica mandibola o macellare, una ricostruzione ossea con osso proveniente di solito dalla calvaria o dal coccige e il paziente poi dovrà affrontare comunque tutto l'iter oncologico. Diciamo che in linea di massima le fratture più identi possono essere visionabili anche con una semplice panoramica, come in questo caso dove ci siamo accorti della frattura della mandibola da una semplice lastra. Ecco che è buona indicazione quella di rivolgersi subito ad un reparto di traumatologia, anche se spesso il paziente che ha male, ha un sintomo ma non ha enorme dolore, ricollega questo fastidio a un problema dentale e si rivolge in prima istanza al nostro ambulatorio. Quindi è importante una corretta diagnosi e è importante che il paziente venga inviato tempestivamente nella struttura adeguata, anche perché l'evento che è subito conseguenziale è un enorme edema, quindi il paziente si gonfia in una maniera spropositata e non ha più capacità di muovere la mandibola. Quindi i cinque punti della classica infiammazione che ci hanno dettato gli antichi romani, cioè tumor, dolor, rubor, calor e funzionese e quindi gonfiore, dolore, rossore, calore e l'esafunzione vengono rispettati. Con questi cinque punti noi riusciamo anche ad individuare una frattura. Se la frattura interessa la superficie zigomatica, in alcuni casi il chirurgo orale può ambulatorialmente, se esperto in materia, quindi se pratico della chirurgia del seno macellare, intervenire. Ma è comunque più consigliabile il ricovero nosocomiale perché spesso e volentieri ci si trova di fronte anche a delle fratture dell'orbita oculare. Quindi si entra poi in un ambito in cui il pericolo di danni anche a carico della struttura oculare è molto molto alto. Quindi il mio consiglio è comunque di rivolgersi ad un pronto soccorso non odontoiatrico ma ad un pronto soccorso ospedaliero e ad un reparto di chirurgia maxillofacciale. Anche qui l'iter è quello chirurgico della ricostruzione del seno macellare, quindi della struttura zigomatica anche qui con delle ferule e con dei bloccaggi e l'iter che è un postoperatorio molto molto doloroso ma torna ad una restituzione ad integrum, quindi ad una funzione originaria praticamente totale nel giro di 4-6 mesi. Con questa rapida garellata sulle fratture osse di competenza orale maxillofacciale vi do un caro saluto e appuntamento alla prossima puntata. Grazie